No, è qui! Vai, 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 vai! Fai fretta! Hai fatto! C'è solo una busta! Via, via, andiamo via! Parma, veniva! Via, andiamo, che funziona! Fermo, delinquente! Fermo! Vieni da questa parte! Vieni, vieni, vieni! Che cazzo! Vai! Vieni! Polizia! È andato di là! Corri, che lo prendiamo! Fermati, strazzetta! Razzista! Socchiami questo! Corri, Rato, corri! Non appoggiarti alle porte! Treno in partenza! Rato, va presto! Il treno sta per partire! Vai, vai! E sedili! Sali, sali! Entra dal finestrino! Vabbè, le porta! Aspettate! Lei, aspettate! Che cosa avete trovato? Gardo! Nell'arma di etio! Abbiamo trovato dei milioni! Portatemi con voi! Pegli di puttana! Gardo! Che succede? Tranquilli! Offro io da bere! Ma che dici? Sei matto! Mi hai fatto prendere uno spavento! Lui mi ha detto di fare qualcosa e io ho fatto a modo mio! A modo suo! Dov'è la roba? Consegnare al detenuto Joao Clemente Penitenziario di Colva Tutto qui! Siamo ricchi? Quello chi è? José Angela È stato un completo disastro alla stazione A momenti mi ammazzavano per una lettera Per una lettera? Sì, ma non è solo una lettera Già Raffaele voleva saperne di più Quindi aveva ancora bisogno di me Perché io sono forte e sono quello che risolve tutto Sì, ma non è solo una lettera